La presentazione dell'attività 2017 dei Sacrimonti del Piemonte. Tracciamo oggi un bilancio di quello che siamo riusciti a fare come consiglio in un anno di lavoro molto intenso e annunciamo i lavori e le attività che abbiamo in mente di realizzare, che vanno nella direzione di considerare il sito formato da sette Sacrimonti come un sito unico, esattamente come il riconoscimento UNESCO nel 2003 ha rilevato. Lavoriamo nella direzione di recupero fondi, che è molto importante perché il patrimonio che dobbiamo gestire è ingente e soprattutto la nostra intenzione è di lavorare con progetti che mirino a far conoscere il valore assoluto che questi beni rappresentano e che purtroppo non è ancora così scontato sia nelle conoscenze di una persona di media cultura. Questi luoghi contengono dei patrimoni architettonici e artistici di estremo valore e interesse, sono lì da cinque secoli a raccontarci scene di una veridicità e di una scenografia stupefacente e purtroppo non sono ancora così conosciuti. I nostri programmi di valorizzazione del sito dovrebbero essere anche di rimando un modo per attrarre anche i finanziamenti che oggi non arrivano più con la dovizia che forse negli anni passati c'era. In questo momento storico vale per tutti i beni culturali. Quali sono i sette sacrimonti? I sette sacrimonti che uniti a due sacrimonti lombardi di Varese e di Ossuccio formano il sito Unesco, il sito seriale Unesco, sono Crea, Orta sul Lago d'Orta, Ghiffa sul Lago Maggiore, Domodossola, Belmonte nel Canavese, Varallo e Europa. Le prospettive per questa attività 2017? Le prospettive sono tante e secondo me anche di tipo positivo. C'è un consiglio che lavora, che lavora con armonia. I siti sono di tale importanza che una volta fatti conoscere, cioè superato questa fase di mancanza di conoscenza del patrimonio, se noi lavoriamo per farlo conoscere è impensabile che noi non si trovi il modo di attingere, di trovare delle risorse. Dei risultati ne abbiamo già ottenuti e molto lavoro è già stato fatto. Patrimonio Unesco? Certo, è un patrimonio Unesco e come tale, essendo stato riconosciuto a livello mondiale, il suo valore per la sua unicità e per la sua universalità, tale da essere considerato un patrimonio dell'umanità, è impensabile che non sia riconosciuto dalle popolazioni locali e dalle comunità locali che l'hanno tutti i giorni sotto gli occhi.